Gabriele Piatto, di confermato sindaco di Fignano, cosa vuoi dire ai tuoi concittadini? È una grande gioia, è la loro vittoria, la vittoria del mio paese, dei miei cittadini che hanno compreso lo sforzo di migliorare questa realtà. Fignano oramai è matura, non si fa più prendere per i fondelli e quindi è stato un voto intelligente, un voto per migliorare, un voto di riscatto. E' una rivoluzione pacifica che i miei cittadini avevano il desiderio di realizzare. Viva Piatto tutta la lista!